La relazione nostra è stata il dispiacere perché il dottore ha detto che il nostro figlio non camminerà. Abbiamo incominciato a fare quella terapia che ci hanno prescritto, però è incominciato a peggiorare. Loro erano convinti che facendo che la terapia camminavano, invece no. In un tempo la vita è stata un po' amara, perché tu avessi un dispiacere di questo, quindi non sei tranquillo e felice. Certo sempre avanti, di andare avanti, di andare avanti, ma purtroppo non abbiamo fatto niente. Quello che abbiamo voluto fare l'abbiamo fatto, a fare sempre la terapia. E questo è tutto. Adesso pure i dottori ci hanno levato a fare terapia, perché non aveva bisogno più, non lo so. Un cristiano da morire, la terapia già faccio. Allora fai una seringa, facci tu morire. Ma tu se non fai terapia, peggiori. A me mi fai peggiorare. Abbiamo fatto sempre una battaglia con i dottori, che poi già si vede quando hanno levato questa terapia, capis? Alla comodità. Già quello non beve più buono, una biancoia buona, quindi è una cosa importante. Loro l'hanno tolta, poi vorremmo che amma farì. Comunque sono andata in coma per otto giorni. Questo è tutto. Ti ho detto tutto. Come proseguite così tutta la vita? È andata sempre così. I primi tempi sono stati terribili, come gli ultimi, cioè i giorni d'oggi. Non gli ultimi perché gli ultimi non li conosciamo. E quindi è stata sempre così. È andata sempre così per 43 anni. Io ho lottato, ho combattuto per Roma, per Napoli, per Caserta e anche a casa. Ho dovuto affrontare dei problemi. Ed è molto serio questa cosa, è molto importante dirla. I primi passi sono stati molto difficili, perché io avevo 26 anni e non avevo questa esperienza. E non aveva chi mi aiutava nemmeno a casa. A volte ho trovato delle difficoltà molto serie. Quasi nessuno ti capisce. Poi ogni anno Emilio deve essere rivisitato a Caserta, all'ASL, per confermare la sua malattia. Che poi se è il caso che Emilio fa, come Lazaro alzati e cammina, toglieranno la pensione. Ma magari la togliesse perché Emilio camminasse. Non mi interessa della pensione. A me non mi interessa proprio. E che vogliono togliere anche l'accompagno. Ma se Emilio fosse una persona che mangiasse da solo, andrebbe in bagno da solo, bevesse da solo. Quanto libro di naso, la testa, le mani, qualsiasi cosa, il viso. E lo farebbe da solo. Non dipendesse da me. Se si prendessero anche tutto, la pensione, l'accompagno, a me non mi interessa di cederlo. Perché Emilio stia bene. E che una mattina ho scoperto che aveva una febbre. Aveva la febbre molto alta. Ho chiamato il medico. Il medico mi ha detto che si trattava di una bronchite. Allora, per tre giorni mi ha curato questo bambino e alla fine della febbre, eccoci qua. Questa è la vita. Non era una febbre, ma era una meningite. È molto grave. Ed eccoci qua. Allora Emilio, io, per tenerlo sempre impegnato, l'ho portato all'asilo, l'ho portato alle scuole elementari e ha fatto anche le scuole medie. Riusciva a scrivere, riusciva a leggere, riusciva anche a parlare bene. Senonché poi, mano a mano, la malattia si è aggravata e è andata avanti. E abbiamo finito tutto. Allora, alla mattina viene una signora e mi viene ad aiutare ad alzarlo, a pulirlo, a lavarlo tutto per bene, a cambiarlo tutte le mattine, a lavargli i capelli e tutto quanto. Dunque, è il momento della pappa. Emilio deve essere imboccato sia a mangiare, sia a bere. Adesso le hanno tolte la logopedia e si buttò tutta addosso perché non fa più massaggio, non fa più altro. Siccome andiamo a fare terapia, fisioterapia, vicino c'è una villetta, vicino a questo istituto. E quando Emilio ha finito la terapia, lo porto un po' lì, quando è una bella giornata che lui piace tanto, l'erba, gli alberi, ci devagiamo un po' che stiamo un po' insieme. Magari mangiamo un celato insieme, ci facciamo una risata, comuniciamo con le altre persone, con i bambini che stanno nel giardinetto. Le persone che stanno lì, che comuniciamo con loro, che sono molto simpatici, alcune persone molto simpatiche, subito facciamo amicizie. E siamo felici di tornare a casa poi. Emilio è stanco purtroppo, però è contento. No Grazie a tutti.